Ci sembra facile vivere questo verbo, riconoscere così come abbiamo iniziato a vedere ieri, a penetrare nel significato, direi nel mistero di questo verbo riconoscere, dicevo ci sembra facile viverlo nella logica del discernimento, ma di fatti non lo è, perché vedete non è semplice e non sembra è tutto chiaro che gli incontri che vivo, le letture che faccio, le esperienze personali degli altri che toccano la mia vita, cioè che tutto ciò che tocca la mia interiorità è chiara. Anzi, il più delle volte è difficile riconoscere i propri sentimenti, i propri desideri, quelli veri, autentici dentro di sé. Devi passare sempre da una fase, direi, di confusione, di sofferenza, perché per saper scegliere bene, per vivere bene il discernimento bisogna anche soffrire. Ricordo spesso, non solo ripensando un po' alla mia vita, ma anche alla vita di tante persone che ho incontrato, soprattutto giovani, la sofferenza che loro manifestavano, per esempio, quando dovevano scegliere un amore, quando dovevano scegliere la donna o l'uomo della propria vita, oppure la sofferenza nello scegliere di lasciare la propria casa, oppure molte volte anche la sofferenza di lasciare la propria ragazza per consacrarsi al Signore. Ebbene, dopo questa sofferenza c'è stata sempre la luce, ma i nostri giovani, chiaramente aiutati da tanti esperti, da pastori, eccetera, ma anche dallo stesso Papa, vedete che cosa ci dicono a proposito di questa confusione interiore nel verbo riconoscere, che è il primo gradino del discernimento, del cammino del discernimento, ci scrivono queste cose. Mi sento attirato, ho spinto in una pluralità di direzioni, ecco, senza che nessuna mi appaia come quella, chiaramente da imboccare. Ecco la fase di indecisione, di confusione di cui abbiamo detto. Questo è il momento degli alti e dei bassi e in alcuni casi di una vera e propria lotta interiore. Riconoscere non è qualcosa di semplice, ma sempre prevede una fase di lotta interiore. Riconoscere richiede di far affiorare questa ricchezza emotiva e nominare queste passioni senza giudicarle. Richiede anche di cogliere il gusto che lasciano, c'è la consonanza o dissonanza tra ciò che sperimento e ciò che c'è di più profondo in me. Bellissime, bellissime queste parole e questi suggerimenti. Non dobbiamo meravigliarci di quando dobbiamo scegliere e soffriamo, abbiamo le idee confuse, non sappiamo cosa fare, non dobbiamo nascondere queste cose, ma le dobbiamo fare affiorare perché è una ricchezza, è una ricchezza, ma anche saper far affiorare il gusto di ciò che sentiamo dentro, perché quel gusto di ciò che sentiamo dentro, di un desiderio, di un sentimento, di una bellezza interiore, di una bellezza esteriore, il gusto di un dolore, piuttosto che il gusto di una gioia, tutto ciò, tutto ciò mi aiuta a riconoscere e a discernere. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!